Abbiamo la fortuna di avere un archivio storico che ci permette di avere infiniti spunti per la progettazione dei progetti che stiamo sviluppando ora e che svilupperemo in futuro. È una fonte inesauribile di idee, di tecniche e di lavorazioni. Riprenderli in mano e riportarli alla vita è per noi sicuramente un grande onore ma anche una grande responsabilità perché dobbiamo molto rispetto alla storia di questa azienda e i suoi 700 anni. Il nostro obiettivo è quello di tenere fede e onorare la nostra storia. Grazie